C'è un ragazzo che si vuole imbarcare, il suo sogno è navigare e appena l'età cosa fa? Si imbarca, naviga. Il suo desiderio è quello di svolcare i sette mari, di essere libero e di vivere tante avventure e le vivrà, le vivrà davvero queste avventure, ma vivrà anche molte tempeste, molti uragani, tanti momenti difficili, che fanno parte del navigare e se lo immaginava, sapeva che ci sarebbero stati, ma non sapeva come sarebbero stati e alcuni di questi saranno davvero difficili, avrà molta paura in alcuni momenti, in altri invece si sentirà forte, dirà a se stesso però come sono diventato bravo nell'arte del navigare, proprio grazie a quei momenti, grazie a quelle esperienze difficili che farà, perché un mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio. Ma non sono le uniche esperienze che farà sulla nave, in realtà si troverà con tanti altri compagni di viaggio e molti di questi non hanno idea di quello che stanno vivendo, non avevano idea di cosa volesse dire imbarcarsi, neppure una vaga idea, anzi questi qui saranno la maggior parte, soltanto pochi saranno quelli che si sono imbarcati con l'intenzione di farlo, perché lo volevano fare e non con tutti si troverà d'accordo, perché alcuni di loro hanno un'idea del navigare, un desiderio del navigare diverso dal suo, ma sono persone che l'hanno fatto volontariamente, hanno scelto il loro destino. La maggior parte dei suoi compagni di viaggio non l'ha scelto, lo ha fatto perché magari lo facevano i genitori, oppure perché nel luogo in cui erano navigavano tutti, oppure perché non c'era di meglio da fare, oppure perché sono stati costretti, oppure perché scappavano da qualche cosa o rincorrevano qualcos'altro. e queste persone ovviamente si sono trovate spesso deluse, e questo le ha incattivite, e le ha rese molto scomode come compagni di viaggio, e sono nati degli attriti, delle difficoltà che ha dovuto affrontare, grazie a queste esperienze ha imparato a ritagliarsi un ruolo nell'equipaggio. Poi ha cambiato anche delle navi, e quindi ha cambiato comandanti, capitani, e ha sperimentato che cosa vuol dire stare sotto un buon comando e sotto un pessimo comando. E poi si è trovato ad avere anche dei ruoli importanti, e quindi a comandare gli stessi, e a commettere degli errori che un tempo criticava, e a fare meglio cose, perché ha imparato dalla sua esperienza e dall'esperienza degli altri. E questo è un po' quello che succede a tutti noi. Ogni volta che ci imbarchiamo in un viaggio, che abbiamo un obiettivo, un desiderio, e quello che succede è che non sappiamo come saranno le tempeste che affronteremo. Sappiamo che ci saranno, è ovvio, ma non sappiamo come saranno. E siamo costretti ad affrontarle di volta in volta, e a trovare delle soluzioni. E per trovare queste soluzioni dobbiamo spesso fare affidamento al nostro modo di pensare, che è importantissimo. E nel farlo, nel raggiungere i nostri obiettivi, ci troviamo insieme ad altre persone, che spesso sono lì perché in famiglia hanno insegnato questo, la società, i valori della loro società erano quelli, e si trovano lì per caso. La maggior parte non ha un'idea chiara del perché è lì, la maggior parte non ha scelto di essere lì. E questo incattivisce una persona. Anche tu, quando ti sei trovato in una situazione che non hai scelto, dove sei in qualche modo stato costretto, costretta, non con la forza, ma dai contesti, no? Viviamo in una società in cui un contesto sociale, culturale, educativo ti può costringere, quantomeno sospingere fortemente a prendere determinate strade piuttosto che le tue. E quello che succede è che poi sei scomodo in quelle situazioni. È faticoso adattarsi. E questo ti rende scomodo anche nello stare con gli altri. E grazie a queste scomodità nascono dei confronti degli attriti, anche dei confronti sgradevoli che però forgiano il tuo carattere, ti aiutano ad affrontare meglio le situazioni. È vero che in certi contesti, in certi momenti, capita che alcune di queste esperienze ti sovrastino. E tu non ce la fai, quindi ti arrendi in qualche modo. Neanche te ne accorgi. Alle volte non lo vogliamo. Ci si arrendi senza saperlo. e vai in quella situazione magari depressiva, di shutdown, dove c'è più nulla da fare, dove stai male e ti sembra di non avere alternative. E anche chiedere aiuto è difficile. Questa è una cosa che, insomma, io, tutti i colleghi del mio team conosciamo perfettamente, sappiamo perfettamente, tutti i giorni abbiamo a che fare con queste situazioni. Sono più frequenti di quello che tu ti possa immaginare. E rialzare la china è difficile, è faticoso. Ma sei costretto a farlo. Perché è l'unica strada, è l'unica possibilità che hai. E se ci pensi bene, questo non capita soltanto quando tu ti imbarchi in una nuova avventura, persegui un obiettivo, vuoi raggiungere un traguardo. E questo è quello che stai vivendo dal momento in cui sei nato. Dal momento in cui sei nata. E' così questo viaggio. E noi viviamo delle difficoltà e non le vogliamo. E' la prima cosa. Chi vorrebbe le difficoltà? Ma chi le vorrebbe? Nessuno. Soltanto un pazzo vorrebbe le difficoltà. Ma sono necessarie. E sono anche rischiose. Perché alcune di queste ti possono effettivamente schiacciare. E chi non è mai stato schiacciato da delle difficoltà? Alzi la mano chi è immune da questo. Io non la posso alzare. Perché è capitato anche a me di rimanere schiacciato da delle difficoltà e di non saperle affrontare. La vita è creativa. Lo dico sempre. Riesce a trovare quella difficoltà che il tuo vicino, il tuo compagno di banco affronterebbe in un attimo. Mentre tu, no. Tu ci rimani sotto. E' sempre così. E' il motivo per cui alle volte diciamo ma guarda, è affogato in un bicchier d'acqua. Ecco, in realtà non è affogato in un bicchier d'acqua. È affogato in quel bicchier d'acqua. E' diverso. E abbiamo difficoltà a capirlo. Perché ognuno di noi sta dietro alla sua unghia incarnita e quello è il male del mondo. Perché siamo chiusi nel nostro solipsismo, nei nostri egoismi minuti, un po' ottusi. E aprire gli occhi e dare uno sguardo più ampio non è così semplice. E da cosa viene? Cosa te lo permette? Te lo permette l'esperienza del viaggiare, del viaggio. Quell'esperienza ti consente di comprendere che in certe situazioni ci potresti finire anche tu e probabilmente ti comporteresti nella stessa maniera che oggi stai giudicando molto male. E questo, questo ti rende saggio. Ma soltanto se sei disposto a fare entrare dentro di te quell'esperienza. se sei disposto ad accoglierla, a viverla nelle sue scomodità. Perché se questa disponibilità non c'è diventerai come dire irrigidito. Comincerai a percepire il resto del mondo come una minaccia, un luogo da cui difenderti. E anche se la tua tana sarà una tana dorata sarà sempre la tana all'interno della palle ti nascondi. e da questo punto di vista è come non invidiare invece chi è capace di vivere serenamente in mezzo alla foresta.